Ciao a tutti ragazzi sono Sparvi e oggi siamo sul sesto episodio delle Skywars Indosso le cuffie Per chi non avesse visto il video Sparvi mi saluti Praticamente ho detto A parte che molti ragazzi mi hanno riconosciuto sul server Già li ho ringraziati, li ringrazio ancora Praticamente ho comprato da poco Minecraft finalmente Con questa skin, un attimo la faccio vedere Con il coso di Youtube dietro che è abbastanza carino a mio parere L'unica cosa che non mi convince tanto sono gli occhi Perché sono azzurri e io non ho occhi azzurri almeno credo Io non ho occhi azzurri Ho notato una cosa che dal primo febbraio forse sto meritando un po' troppo Dato che ho fatto 217 vittorie e 1323 uccisioni Ok devo dire la verità ovvero che Cioè non lo so ma tipo mi sento migliorato parecchio da quando giocavo con Fraxi qualche anno fa Poi non lo so cioè tipo la media di una vittoria Cristo come mi sono salvato Ok a volte ho anche culo però Intanto tu muori tizio Dio quanto lagga la visuale Vabbè comunque ha laggato un pochino Guardate cioè è impossibile Boh a parte che tu ci devi morire così Ok grazie mille per il ponte Beh comunque ogni volta che uccido Sapete che ogni volta che uccido un giocatore mi dà la ricompensa Perfetto per l'omega Meglio conosciuta come Hand of Power Vabbè oddio quanti tizi stanno venendo qua Ciao bello Ma no ma dai ma che cazzo Cioè ya raga ma che palle Volevo fare la terza uccisione Vabbè tanto ma la facciamo Andiamo in centro un attimo e la facciamo Facciamo l'archetta al volo Intanto passa l'aeroplano Uh non me ne era accorto Posso farmi la spada E infatti l'ho fatta Yeah No poi raga facciamo abbastanza serio Perché c'è quello là Vabbò tanto è scarso Oddio c'ha l'arcopotenza 1 Raga non partono le frecce Ma che palle Ma proprio adesso devi laggare Cioè raga non senti il rumore dei blocchi Ma che palle ya Oddio a 2 o sbaglio Sì a 2 raga Oh ma che cazzo Davvero fate Nella mischia Attenzione Me l'ho paggato ragazzi È un colpe Mi dispiace Volevo fare una vittoria un po' più Però Raga comunque cerco di fare tipo una Vittoria ogni partita C'ho 3900 punti Ma non voglio shoppare Non voglio shoppare Facciamo sta sfida Non shoppo Anche se non ho mai shoppato nei video Però vabbè E dicevo Cerco di fare diciamo Di mantenere la media Di una partita Vinta Cioè praticamente Ogni volta che faccio una partita Cerco di vincere Tizio Vedete le cose buone Dimmi di si Ciao Allora Ok perfetto No perfetto Va bene così Grazie mille Ciao tizio Dammi la tua corazza in avanti Non morire Aspetta 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 Mori adesso No no non cadere giù Boom Che vuoi fa Che vuoi fa Che vuoi fa Che vuoi fa Madonna quanto lagga Ed vieni Aspetta Mi sono messo un po' Nella merda Però Me la cavo Me la cavo Ok Yee Mangiamo un attimo per sicurezza Perché ho comunque 4 curi Ehm Vabbè qua non mi serve niente 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 Perfetto È stata inutile questa accisione Invece no Ho vinto un'altra volta Cazzo Che palle Vabbè dai Raga faccio un casino Se shoppo un attimo Questo kit al volo Prima niente di che C'è una spada di pietra Con Pozione di forza Devo fare giusto un attimo Un genocidio Roba da niente È l'arca Volevo far vedere Tipo una dimostrazione Ciao bello Fatti uccidere Da me però Poverino Boom Ok Quanto un attimo La spada E l'arco Potenza 1 Perfetto Non mi ha preso Questa diciamo che Rispetto alle altre vittorie È stata un po' più Eh però Scusate lo so che non dovevo Shoppare Però qua è una tentazione Mo capirete perché È troppo bello quando tipo Ti chiamano hacker E poi scrivi in chat Sono client Che il client praticamente Sarebbe una prova Contro gli hacker Cioè praticamente Ci vanno tutti quelli Da che non sono hacker Cioè se non si è hacker Installa il client E tipo se scrivi in chat Ti esce la c vicino al nome E diciamo Mostri agli helper Che non si è hacker Praticamente Minchia che mira Adesso capite perché Shoppo l'arco? Cioè no è troppo bello Ho voluto dare una piccola Dimostrazione nel video Facciamo i culi con l'arco Facciamo i culi con l'arco E tu ci vuoi morire però A Enderpearl E andiamo bene Lingotto di ferro Lingotto di ferro Posso farmi Faccio una Spadini diamante Ma già ce l'ho Quindi mi faccio un cazzo Questi lingotti di ferro Ah ma il tizio qua non è sceso C'è ancora il vetro E allora che faccio? Vado al centro vai Minchia però sta venendo così Non cade Non cade raga Non cade Poi lagga pure Però non è detto che non muoia E infatti Ho perso 10 anni di vita Pensavo che avessi lanciato l'enderpearl Cioè non Non era molto bella come cosa Ok benissimo così Frecce Prendo giusto la mia la toro Pozioni Cioè giusto Ho preso tutta la cesta Però dettagli Ok Se incanto l'arco Ho praticamente vinto Dov'è? Ecco qua E ok Potenza 1 Contra colpo Incanti Mantaloncini Poi basta raga Mi scorcio Faccio una vittoria Cioè voglio vincere Ora Perché Non lo so perché Se tutto va bene Dovremmo finire con 6 uccisioni Siamo a 4 Sono rimasti altri 2 Devo uccidere sto tizio Che mi sta dando Molto fastidio Muorici Mentre tappa Mentre tappa Mentre tappa Sì Sì dai Si finisce con 6 uccisioni Se non si suicida questo Ciao Bello Si caga Tizio Ma si fanno ste cose Si fanno ste cose Grazie Contra colpo 1 Raga direi di fare Un'ultima vittoria Al volo Poi casomai Non lo so Completiamo il parkour A caso Ah devo farmi pure Le spade da solo Ma più che altro Facciamoci un bel arc Iniziamo a fare qualche kill Dai 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 Aspettate Ottimo Direi patata Prima di ti No Perfetto Abbiamo anche potenza 1 Tu Intanto muorici Beh raga Direi di fare un'altra Sempre se non muoio prima Facciamoci un'altra partita Dopo Cristo santo Ok raga Facciamo quest'ultima partita Poi penso di concludere qua Perché Cioè Stiamo giocando da Tanto No Che cazzo faccio Na 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 Ma che cazzo fai Ma muorici Ragazzi ha preso la roba Dalla cesta Non ci credo Ci diamo al volo questo Dio Dio Morici 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 Perfetto 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 Ok aveva un enderpern No Ok E' volato Vabbè ragazzi Questi erano le skyworks Abbiamo fatto tante vittorie easy A 75 3 like Prossimo episodio E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Porc p sumerア Sì Mi